Sempre dalle pagine del Corriere Romagna, edizione di Imola, tutti d'accordo sul biogas. La mozione proposta dal Movimento 5 Stelle è stata accolta per trasformare l'energia elettrica a quello prodotto dalla discarica, questo è quanto emerso dal Consiglio Comunale di Imola con queste larghissime intese, ogni tanto fa bene sapere che ci sono.